Ciao Cognacchine e Cognacchini! Oggi vorrei presentarvi i miei nuovissimi orecchini realizzati per gli contest di Perlina Fantasy Scusate Sono questi Li ho chiamati i tre re maggio essendo appunto in tema natalizio questi tre così, questi shut-on, perché sono shut-on Swarovski di 8 mm tre, tre re maggio, no? è venuto, non so, proprio quasi spontaneo niente, se vi piacciono sto partecipando al contest a scade domani, qui lascio il link qui sotto nell'info box e con questo colgo l'occasione per dirvi che sulla mia pagina Le Cognacchini su Facebook sto organizzando, anzi no, è in corso un giochino un giochino semplice e poi ci sarà un premio vediamo un po' ancora non ho deciso cosa sarà un pacchettino a sorpresa, ecco e niente, con questo vi auguro buon anno nuovo e ci vediamo presto un bacione, ciao ciao!